Un nuovo iscritto al portiere, il suo nome è Gigi, ora capirete perché. La porta, il portiere, lo sponsor e il calciatore. Attenzione, ci siamo. Eh Gigi, c'è, complimenti. Fantastico, un gol, fammelo fare, una brutta figura. Attenzione. Eh Gigi, c'è, non passa la balla. Attenzione, ci riprova. Non passa il portiere, quello di balla, il pallonetto, niente. Ci riprova, niente. Attenzione, la sfida è lunga. Che deviazione sopra la traversa. Ultimo calcio di rigore. Chi fa questo vince. Attenzione. Niente. Eh, palo. Chi fa questo vince. Maledetto.